Il centro festeggia 4 anni e la concomitanza del periodo di carnevale ha spinto la titolare, la dottoressa Alessia Gabrielli, ad organizzare una festa in maschera. Al Fisio Prestigio di Alatri, specializzato in fisioterapia, riabilitazione ed osteopatia per adulti e bambini, sono arrivate le mascotte di Ping e Geko, personaggi ammatissimi dai più piccoli. Il Fisio Prestigio festeggia 4 anni, come ogni anno ci ritroviamo qui a festeggiare con i pazienti. Quest'anno abbiamo deciso di dedicarla ai bambini, anche perché la cadenza è a ridosso del carnevale, ma soprattutto perché è stato un anno molto intenso di osteopatia pediatrica. 4 anni sempre in crescita, con progetti nuovi da realizzare. Da poco più di un anno è stata attivata anche una collaborazione con il reparto di pediatria dell'ospedale di Sora, perché alcuni disturbi dei bambini, come piccole coliche o stitichezza, possono essere combattuti con l'osteopatia. L'osteopatia pediatrica è molto utile per la salute dei bambini, ci troviamo a trattare per i più piccoli le colichette, il reflusso, disturbi del sonno, della sozione, fino ad arrivare ai problemi del bambino un po' più grande, quindi atteggiamenti scoliotici, stitichezza, problemi al piedino e quant'altro. Sono stati 4 anni di crescita, per cui sono felicissima e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato oggi, ma non solo, anche i pazienti che ogni giorno ci danno fiducia per recuperare la propria salute. Noi non trattiamo soltanto bambini, ma anche le persone più adulte, per cui offriamo il servizio di osteopatia, fisioterapia e riabilitazione. Anche per questo il quarto compleanno del centro è stato dedicato ai più piccoli, con musica, giochi e animazione, ma anche altre sorprese per i visitatori. Abbiamo omaggiato tutti i partecipanti a questo evento con una valutazione osteopatica gratuita che potranno venire a fare e hanno avuto la possibilità di conoscere i nostri prodotti naturali professionali, la linea My Natural Care, alla quale si sono aggiunti anche dei prodotti specifici per i bambini con ingredienti di origine biologica al 100%.